Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Giorgia Meloni è stata dai suoi ammiratori lodata per la dimostrazione di grande professionismo politico, contestata dai suoi oppositori per le tante troppe bugie. Lei come ha letto la conferenza stampa di fine anno della nostra Premier? Grazie per l'invito. Avendo avuto come tutti tre ore buone a disposizione per scrutare e ascoltare la Premier Meloni, l'ho osservata soprattutto dal punto di vista del linguaggio. E devo dire, questo non so se le farà piacere, che ho riscontrato in lei ancora più di altre volte una espressione estremamente concisa e concreta. È una politica pura, la signora Meloni, ma parla come un manager, vorrei dire, ma qui rischiamo di offenderla troppo, come un tecnico. Cioè non ha niente di fumoso, ha contenuti che sono tutti e solo politici, orientati un po' a parlare del bene comune e un po' a delineare rapporti di potere, tutti politici, espressi con grande semplicità e con la concesione di un manager. Questa è una cosa interessante. Allora, lei è partito dal modo con cui ha... Allora... Allora...